Bene ragazzi, benvenuti in questo canale, oggi ragazzi siamo qui con le dark pacelle di Lazio Cagliari Allora ragazzi, iniziamo subito col portiere, Thomas Stragoscia, 6 e mezzo, non sbaglia praticamente niente Perché il gol non può fare niente al gol, la punizione è bella di Cia Petro ma lì Stragoscia sta dormendo Non lo so, non lo conto perché è stata annullata, 6 e mezzo, mi raccomando, far rating ragazzi Niche in descrizione, app dove potete votare e se azzeccate il voto, andate più vicino al voto che danno gli esperti dei giornali in cui votano La Corriere dello Sport, Cazzetta e Bari, potete vincere di premi, quindi ragazzi è tutto gratis, tutto gratis, basta che metti un voto Tutto se indovini, buono da 20 euro su Amazon, mi raccomando, far rating con il link in descrizione, non ve ne pentirete Stavo dicendo, non sbaglia niente, 6 e mezzo per Stragoscia Acerbi, allora Acerbi da 6, Acerbi sta calando, non voglio dare l'insufficienza a Acerbi La tocca per il gol, ma non è una tua gol perché forse la Pava deve entrare dentro Non lo so, non lo so, non lo so, perché quella direzione ha deciso molto, ha deciso E poi Patrick, 6 e mezzo, non sbaglia niente Patrick, ha fatto più di Acerbi Patrick Non sbaglia niente Patrick, bravo Patrick, oggi sono tutti bravi sinceramente Non devo dare neanche l'insufficienza, non devo dare Poi Luis Felipe, 6 e mezzo, molto bene per Luis Felipe Centrocappo, Cataldi Cataldi entrano nel secondo tempo Io Cataldi ho dato un bel 6, allora Cataldi 6 ho dato Fatelo 6 a Cataldi perché anche se ha giocato 5 minuti Mi appasso molto, molto Molto, molto bene col pallone Mi appasso molto, molto bene col pallone ragazzi Molto, molto bene Quindi complimenti a Cataldi che ha giocato una partita bella Anche se ha giocato gli ultimi 5 minuti, ha giocato una bella partita Ha provato a mantenere il 2-1 e attaccare sempre di più ovviamente Milinkovic, 8 e mezzo Che gol ha fatto Milinkovic, ma che giocatore è Milinkovic Ieri abbiamo giocato una partita stupenda ragazzi Team Milinkovic, ieri su Che partita ha fatto Mamma mia, il gol ci avrà tutto 8 e mezzo Poi Parolo, 6 Parolo è calato dalla partita contro Givettus Da quello che avevo detto Però rimane sempre il parolo che ha gli anni E che è lento E che comunque ci sta Che alcune volte fa male Ma non ha fatto male Gli do i macco 5, 5 e mezzo Gli do un bel 6, gli do La sufficienza di la do La sufficienza L'uso Alberto Mamma mia ragazzi Otta l'uso Alberto Mezzo po' di meno perché non ha segnato Ma il mago Il mago Ancora il mago Il mago Il mago Ancora il mago Mamma mia Mamma mia Mamma mia Il mago Il tuo Correa ragazzi Io Gli ho dato un bel 6 e mezzo Ha fatto la sesta immobile per il gol Quindi già gli metto un piatto d'argento d'olto 6 e mezzo e Correa Immobile Ragazzi immobile Io gli do un bel 7 Bravo immobile Perché tira in porta finalmente Parate di grande Palla va sul palo E segna anche Quindi 7 Ci sta tutto Per immobile Bravo Ciruzio Che si ritorna il gol 31 Adesso Ronaldo Vediamo se Sfiderà anche se Ronaldo Grudinese Zero gol Poi Stavo dicendo Che devo sapere Stava di Che sei tu Sei mezzo Che sei tu Non mi è dispiaciuto ieri Ecco per esempio Che sei tu Ha fatto sempre male Ha fatto Io non mi è più niente dispiaciuto Bravo Che sei tu Molto bene Molto bene Poi Lukaku Sei È calato Ma ci sta Ci sta Però Il corso in mezzo Li mette Johnny Sei mezzo Ecco Johnny mi è piaciuto di più Giocato di meno di Lukaku Mi è piaciuto di più Però Johnny Si sveglia Johnny si sveglia Alcune volte gioca male Alcune volte gioca bene Più male che bene Però gioca anche bene Alcune volte Diciamolo Lazzari Lazzari ragazzi 7 Lazzari devo dare 7 Perché quello è troppo E' troppo forte Su quella fascia ragazzi Anzi Devo dare 7 E' troppo forte Su quella fascia Che ci sarei più forte Su quella fascia C'è stata In realtà Però vabbè Basta Questi qua ragazzi Voti Ah Poi c'è da Simoninzaki Allora Simoninzaki Io ho dato Un bel 7 Izaki È riuscito A far giocare Una squadra Molto bene Per quanto mi riguarda Far giocare Una squadra Che viene da 4 scoffitte Le ultime 5 partite 4 scoffitte E' un pareggio Cioè Ha fatto un punto Le ultime 5 partite Ha fatto Quindi ci sta Contro il Cagliari Che non è male Un decimo è classico Quindi ci sta Non è facile Stai perdendo E' rimontato Contro il bel Cagliari E quindi Complimenti Inzaghi Ha messo i cambi belli Perché ha messo Lucao che era stanco L'ha messo a giorni dentro Correa Tornato L'ha messo Bravo Bravo Molto bene Quindi ragazzi Questo Erano Le dark pagelle Di Lazio Cagliari Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Potevate su farle Mi raccomando Link in descrizione Noi ci becchiamo Al prossimo video Bene ragazzi Ciao Ciao